Ecco lì, sei pronto perché sono scambiato? Certo. C'è che si svolge il bar. Lei capì che c'è? C'è Alberto ancora là? Cazzo, ma che peccato. Guarda, non so la zia, non so, non so. Trovo alle sentire e vanno su. No, non è su. Andiamo verso l'alto? Eh, dove devi andare? Sulla luna? C'è i pannelli suoi, le telecamere. Esatto, non ci sono le mani in capacità. E' una storia proprio che devi finire. Ha tagliato il seguito. Eh no, le mani in capacità. Post feste. Hai chiesto la mani in capacità? Hai detto la mani in capacità? Proprio bianca così, almeno nero. Nero, nero e largo. A tendone. Dov'è a propostare? Le longate. Il giardino dei limoni. Questo qua sarà tutto più. È il bacolo. Non andiamo a bambino. Il GPM è più suo, eh Marchino? Eh. Avete già mollato? Non dire che ti fermi lì facendo finta di aspettare. No, eh. Ascolta, siamo raccolti in preghiera. Se partite così... Siamo, siamo, siamo raccolti in preghiera. Perché ci distogliere? Vala, vala. Bella scusa. Eh, scusa buona per riposare. Non lo so perché mi arriva. O no? No, no. No. Ah. Prendi da qua. Signor, signor. Se mi son girato c'ha già detto io devo andare a maniare. non puoi tornare a lavorare hai fatto i segni noi italiani io trabaccare hanno alzato le mani esatto io titolare è una bestemmia lui pensare io andato a correre esatto lui pensare male io mai fatte ste robe esatto lui lo facevi di corsa allargati e salivi da quel sentiero che è molto bello anche quel sentiero lì se non lo facciamo la rovestra in gelà stai riprendendo? si non ho capito poi lo faccio vianlu adesso ti salto è è passonetto dai non ho capito non ho capito l'oltre Sì, vediamo un caldo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Salve. Grazie a tutti. 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 Chi è? Grazie a tutti. Ci scenderemo. Grazie a tutti.